Bisogna fare attenzione a fare le dritte le unghie Oh Mauri, tu vuoi essere la crocetta? Piff su Muccao proprio E' bello che lui partiva tutto in ruace e mi sta intervistando Piff Come se era la televisione Che tipo ci piace, no? Poi come ho visto che Piff cominciavo a Ceggiare la faccia, dove andava a seguire, dove andava tagliatolo Perché praticamente aveva, come si dice, quando il diabete ti chiene, ti scende E penso che stamattina Ildo ce l'aveva chiamato Cennuto Comunque non era così, era da nostra giornata E Ildo era convinto che Piff Usava intervistare per farlo diventare famoso E invece poi ci ho cominciato a domandare delle sabole E se voi ci fate caso, Ildo, ci raccangia la faccia Si diventa strega No stregone Strega proprio Si diventa la faccia come la strega E però non è la culpazione È una cosa del diabete Che c'è nel Cina Depende come se sei stamattina comunque Però è un buon presidente Gli esperti della comunicazione Che... Che fanno i panini Si, però è buono Gli esperti della comunicazione Infatti... C'erano ieri di Piff Però... Ildo può dire Oh, se penso io che faccio i panini Per i poveri Per i disabili I panini, no? Fanno i panini Paccato io Con la fine di fare i panini Ma non solo i panini Ci sono altre... Le altre... Vabbè... Non li posso dire perché Se no poi mi attaccano Se no poi mi fanno attaccare Perché... Non c'è la prova Però... Comunque... La siamo aperta Oltre c'è su i panini sani Panini sani Ma non integrali Ai domiciliari Ciao, ciao Grazie